Partiamo dalla fine, dal novantatresimo, il 2 a 2 di Di Gennaro e il tripudio di Selvapiana e di una curva nord-scorrano che impazzisce letteralmente. Un campobasso coriaceo e fortunato riprende il Chieti che si mangia le mani per una vittoria svanita nel recupero che i teatini avrebbero meritato. Super il portiere Conti nel campobasso, Esposito ed Orlando nel Chieti danno confidenza al pallone. Si gioca davanti a 2000 spettatori, un centinaio provenienti da Chieti, davvero imponente la cornice di pubblico a Selvapiana. Il pensiero è costantemente rivolto a Matteo Monti, le cui condizioni vengono definite buone dalla società Rosso Blu. Subito Chieti in avanti al secondo angolo e colpo di testa di Cucinotta con deviazione di un Rosso Blu prima sul palo, poi fuori dal corner che ne nasce battuto da Esposito, finta colpo di testa in rete da parte di Vano, teatini avanti dopo pochissimo dall'inizio. Il campobasso patisce un po' il contraccolpo dopo lo svantaggio e Rosso Blu si fanno vivi in area abruzzese al quarto d'ora, imperioso lo stacco di Miani su cross di Dragone, la traversa impedire il pari Rosso Blu. Il campobasso stenta abbastanza, al ventiquattresimo tiro cross di Pani, schina, schiaffeggia la sfera per neutralizzare. Il Chieti è squadra davvero temibile che predilige verticalizzare, al venticinquesimo è pescato troppo bene Prinari, ma un super Conti evita il raddoppio. Al ventisettesimo palla bucata da Nicolai, Orlando può fuggire verso la porta, la conclusione finisce sull'esterno della rete. Il Chieti gioca meglio del campobasso, al trentunesimo la mazzata del 2-0 è servita da Orlando a Delgrosso. Cross perfetto per la testa di Esposito che colpisce e segna nella beata solitudine dell'area di rigore rosso-blu. L'ex di turno si toglie la maglia e viene ammonito. Farina fa riscaldare tutta la panchina, il pubblico non fa una grinza e continua a tifare incessantemente. Al trentaquattresimo, tiro sporco di Di Gennaro con la palla che si perde fuori. Non è un buon campobasso quello del primo tempo, ma i lupi riescono comunque a rimettersi in gioco al quarantatresimo. Palla scodellata da Pani, schina, frana, suttodino e calcio di rigore comandato da Cavallina di Parma. Solo giallo per l'estremo Teatino. Si perde tempo prima della battuta anche perché i due giocatori rimangono infortunati. Implacabile dal dischetto Miani e 2-1. Giochi riaperti alla fine del primo tempo. Il campobasso trae l'infa vitale dalla chiusura della prima frazione. Con le immagini siamo nella ripresa. Dopo 5 minuti Farina decide l'ingresso di Fazio per Marinucci-Palermo che non è al top della condizione. Il giocatore neoentrato spedisce subito il pallone di poco fuori. Buona l'iniziativa da parte di Fazio. Al nono esposito semi nel panico. Nell'area di casa davanti a Conti viene ipnotizzato dall'uno di casa. Qualche secondo dopo in area Nicolai tocca il pallone per anticipare l'avversario. Conti evita un clamor rosso autogol. L'azione continua e Nicolai commette fallo su Orlando. Rigore e giallo per il difensore di Farina. Dal dischetto è straordinaria la parata di Conti sul tiro di Vitale. In costante apprezzione la difesa di casa. Al quarto d'ora Scudieri perde palla. Orlando va verso la porta. Ancora super la risposta di Conti. Un po' tardivo il campobasso in attacco che deve recuperare il risultato. Al diciottesimo sinistro di Todino pallone sul fondo. Esposito fa girare la testa al campobasso. Al diciannovesimo fa tutto il campo prima di spedire il pallone al lato. Rammarico per Todino al trentaquattresimo quando la punizione da buona posizione sorvola la traversa. Il campobasso chiude con i crampi di Scudieri e Cianci. Due giocatori quindi a mezzo servizio. Intorno al quarantesimo tiro a giro di Corvino. Neo entrato nel Chieti. Le dita di Conti per la deviazione in angolo. Al quarantunesimo lancio dalle retrovie. Occasionissima per Miani. Opposizione di Schina. Poi fallo sul portiere Teatino. Al quarantaquattresimo servizio di Esposito per Corvino. Tempista Conti nell'anticipo. Al novantesimo solo Chieti in aria. Da Esposito a Orlando. Super Conti. Nega la goleada abruzzese ma davvero grandissima occasione per la squadra di Ronci. Quando sembra matura la vittoria Teatina ecco il felicissimo finale per il campobasso. Siamo al novantatresimo. Todino taglia da sinistra. La traiettoria è sporcata di testa da Di Gennaro. E il 2 a 2 definitivo. La nord Scorrano esplode per la festa. Per il campobasso il pareggio equivale ad una vittoria. Farina ammette che la sua squadra tecnicamente avrebbe meritato di perdere. Ronci non si capacita della mancata vittoria. Mercoledì si torna in campo a Recanati da registrare. Dopo la partita le intemperanze di alcuni tifosi abruzzesi che pensano bene di danneggiare alcune auto in un parcheggio antistante lo stadio di Selvapiana. Episodi da stigmatizzare.